Scandalo nell'accordo Spalletti-Marotta. I miei giocatori devono essere titolari, li voglio in vetrina. Alla vigilia della sfida contro la Francia, valida per la Nations League, la nazionale italiana è al centro di una bufera mediatica. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante Iscriviti e di lasciare un Mi piace. Le polemiche sono esplose soprattutto per le scelte del commissario tecnico Luciano Spalletti, che sembra ancora una volta puntare su un blocco di giocatori dell'Inter, nonostante la loro deludente prestazione agli ultimi europei. Questo avviene a scapito dei calciatori della Juventus, che sembrano destinati a rimanere in panchina, ma c'è di più. La scelta di schierare Davide Frattesi, finora mai utilizzato dall'Inter in questa stagione, al posto di Niccolò Fagioli o altri giocatori che hanno avuto più minutaggio, ha fatto infuriare molti tifosi italiani. Perché puntare su un calciatore che non ha ancora dimostrato nulla in campo, mentre si lasciano in panchina giocatori con maggiore esperienza e forma? Ecco la probabile formazione dell'Italia per la partita inaugurale della Nation League contro la Francia allo Stade De France. Le ultime prove tattiche di Spalletti hanno sciolto. Gli ultimi dubbi. Giovanni Di Lorenzo è stato preferito a Federico Gatti, Alessandro Bastoni ha vinto il ballottaggio con Alessandro Buongiorno e Samuele Ricci è stato scelto al posto di Niccolò Fagioli. L'unica novità di questa mattina è l'inserimento di Raul Bellanova sulla fascia destra, al posto di Andrea Cambiaso. A gettare benzina sul fuoco è intervenuto Fabrizio Corona, noto tifoso interista, che ha criticato apertamente le scelte del CT, dichiarando che i giocatori italiani dell'Inter sono calciatori da serie B. Prima di tutto diciamo che i giocatori della Nazionale, tutti, a parte Donnaroma e forse Bastoni, in nessun campionato del mondo giocherebbero. Cioè nei campionati importanti, parliamo Inghilterra, la Spagna, la Francia, se Barella lo metti nel Manchester City, nel Real Madrid, da Manchester United, nel Liverpool, non gioca. Prendi le squadre più forti nel Borussia Dortmund, Barella non gioca, te lo dice un interista. Gioca di forse Bastoni e Donnaroma. Gli altri sono improponenti. Prima analisi, perché a differenza di tutti gli altri, per esempio Scamacca, tecnicamente non è male. Il resto dei giocatori, forse Barella, insomma, vabbè, ma Di Marco tolto al contesto Inter. Di Marco al contesto Inter è un giocatore in serie D, te lo dice un interista sfegatato. Barella nel contesto Inter funziona, Darmiano nel contesto Inter, ma è gente che non sa fare un dribbio, non si sa smarcare, non sa palleggiare. Scamacca almeno un po' di tecnica ce l'ha, però se non hai voglia. Guarda, io ho pensato... È proprio quello, cioè erano sbogliati, non vedevano loro andare inizio. Dichiarazioni che hanno subito acceso il dibattito tra i tifosi, aumentando la tensione a poche ore dal fischio d'inizio. E voi, da che parte state? Ha fatto bene Spalletti a puntare nuovamente sul blocco interista, visto agli europei, oppure avrebbe dovuto dare più spazio ad altri giocatori? Fatecelo sapere nei commenti. Chi vorreste vedere in campo contro Mbappé e compagni.